Allora, buonasera a tutte e a tutti. Sono Marco Lobardi di Ecoistituto Reggio Emilia Genova e introduco una puntata nuova della serie di incontri del Prefestival di Bioetica 2024 sull'intelligenza artificiale. Questa collana è organizzata congiuntamente dall'Istituto Italiano di Bioetica e dell'Ecoistituto Reggio Emilia e Genova e oggi pomeriggio ci parlerà l'ingegner Enzo Tortello di energia e intelligenza artificiale. Enzo Tortello è ben conosciuto da tutti quanti, ma ne dico comunque due parole nel caso qualcuno, soprattutto per chi si collegherà via canale YouTube dell'Ecoistituto. Enzo Tortello è un ingegnere elettrotecnico di grandissima esperienza, ha lavorato per oltre 32 anni per Ansaldo Energia, che è la maggior industria manifatturiera italiana del settore. È stato membro nazionale del Comitato di Studi Macchine Rotanti del CIGRE, che è l'ente internazionale che si occupa della produzione e distribuzione dell'energia elettrica in tutto il mondo. È stato il convento del working group sui grandi motori e le centrali di generazione. È stato per un ventennio nel bordo del Power Gen Europe. Ha effettuato consulenze nel campo delle macchine elettriche rotanti e in quello anche della qualità molto importante nel settore. A fine degli anni 70 ha insegnato all'Università di Cagliari e continua ancora adesso a tenere seminari e lezioni presso l'Università di Genova e quella di Bavia. Ha depositato due brevetti e ha scritto oltre un centinaio di articoli tecnici. Quindi una grande esperienza e professionalità nel settore. Dal 2017 è Presidente del Comitato Tuttele Ambientale Genova Centro-Ovest, quindi difendendo quelli che sono i diritti dei cittadini calpestati molto spesso dalle emissioni in aria del porto. E dal 2020 è Presidente dell'Ecoistituto Reggio Emilia e Genova, quindi in questo caso è il padrone di casa a tutti gli effetti. Gli interessi principali sono nel campo dell'energia, dell'inquinamento da traffico marittimo e di ICT. Quindi questa sera, parlando di energia e intelligenza artificiale, unisce entrambi questi argomenti. Quindi lascerei a te, Enzo, la parola. Grazie. Vediamo un po'. Speriamo di uscire per la condivisione. Speriamo di uscire per la condivisione. Speriamo di uscire per la condivisione. Comunque interessante. Diciamo che per l'intelligenza artificiale, certamente, l'energia non è che sia il campo più largo, tanto per utilizzare un termine. Comunque, le applicazioni sono abbastanza. Interrompetemi in qualsiasi momento, perché ovviamente non è il caso di andare avanti se uno ha qualche cosa da chiedere. Direi che uno dei campi principali sono senz'altro le energie rinnovabili. Perché? Perché diciamo che l'enorme quantità di dati, big data, sono in fondo alla base della transizione energetica. Questo sia per l'utilizzo delle fonti stesse, sia anche per individuare i siti più adatti alla realizzazione di un impianto eolico solare. Perché, effettivamente, anche la scelta è abbastanza importante, soprattutto su un suolo come il nostro, che non è che sia, da quel punto di vista, il massimo. Ad esempio, sono molto importanti le previsioni meteorologiche più possibile precise e attendibili per quanto riguarda ventosità e raggiamento, perché se tendiamo a una produzione ottimizzata, è chiaro che dobbiamo scegliere i siti adatti. Oltretutto c'è anche il discorso dell'idroelettico che in questo momento sta diventando abbastanza importante perché non abbiamo un apporto costante di questa forma d'energia, ovviamente, perché o ne abbiamo troppo o ne abbiamo troppo poca di acqua. Quindi, per rendere, tutto sommato, più competitive le fonti rinnovabili, bisogna scegliere la localizzazione, dare una localizzazione il più possibile ottimizzata. Anche dal punto di vista della biodiversità, però, è importante, perché chiaramente si legge spesso che aver posto o porre delle paleoliche in certe posizioni comporta il cambio delle abitudini di volo degli uccelli e, diciamo, altre cose. Quindi, per pianificare la realizzazione e l'esercizio di un parco eolico in particolare, minimizzandone l'impatto, è molto importante andare ad analizzare quelli che sono chiamati big data. Ora, qua ho preso un'immagine relativa all'impianto eolico offshore. Ovviamente, per il momento, non è italiano, ma anche se a Civitavecchia è stato stabilito di fare un impianto offshore piuttosto potente. Ne abbiamo sentito parlare recentemente, proprio anche in questo festival. Quindi, qua torno ancora al discorso del, se vogliamo rendere più competitive le fonti rinnovabili, dobbiamo tutelare la biodiversità, abbiamo proprio la necessità di studiare tutti questi dati e quindi pianificare la realizzazione e l'esercizio di un parco eolico, minimizzandone l'impatto. Teniamo presente che stanno discutendo, o in questi giorni stavano discutendo anche il discorso dell'agrifotovoltaico. È un altro problema piuttosto importante perché si corre il rischio per realizzare degli impianti fotovoltaico di portare via dello spazio all'agricoltura, cosa che ovviamente sono tutte cose che in Italia sono estremizzate, perché in fondo soprattutto al centro nord le zone altamente abitate in qualche modo sono veramente diffuse. Adesso passiamo a un argomento che invece è particolarmente, secondo me, interessante, quello che è relativo al monitoraggio e la manutenzione. Purtroppo abbiamo sentito ancora ieri dell'incidente che è successo a delle persone che sono state esposte in qualche modo a un ambiente aggressivo, anzi mortale, perché ormai poi l'hanno affrontato. Quindi il monitoraggio e la manutenzione sono veramente delle cose importanti. Perché? Perché questa attività è sviluppabile con robot e droni prevalentemente. Perché si usano i robot? Ad esempio il robot, ma questo non da quando c'è l'intelligenza artificiale, ma quando già, diciamo, ai miei tempi in qualche modo, a fine anni, a fine dell'altro secolo, avevamo, utilizzavamo dei robot per andare, ad esempio, a fare delle riparazioni in caldaia. Questo perché? Perché per raffreddare una caldaia di grosse dimensioni, molto spesso ci vogliono non delle ore, ma dei giorni. E quindi l'uomo che poi deve andare, parliamo di caldaie di grosse dimensioni, ma il manutentore non può chiaramente andare a visionare e eventualmente riparare questi fasci tubieri quando sono ancora caldi. Cioè ci sono delle temperature al di sopra delle quali assolutamente non possiamo mandare una persona, anche se opportunamente equipaggiata, a eseguire o dei controlli o delle manutenzioni. Io parlavo ad esempio di caldaie perché la temperatura è piuttosto elevata, ma anche nel caso del nucleare non è che, diciamo, l'uomo possa. A volte lo fa, ma insomma non è idoneo che vada a fare ispezioni o in qualche modo delle eventuali riparazioni. Per cui direi che ci sono delle condizioni particolari in cui è opportuno, se si vuole risparmiare tempo oppure si vuole evitare che ci siano dei danni alle persone, avere dei robot è certamente importantissimo. E non si è aspettato l'intelligenza artificiale, come dicevo, ma era un campo tipico a fine degli anni 2000, è un campo tipico dell'ICT. Qui, vabbè, qua è una centrale, quindi con le torri di raffreddamento, tanto per non continuare a far vedere delle scritte e basta. Qui l'importante è che l'applicazione più promettente riguarda la manutenzione preditiva. Gli algoritmi dell'intelligenza artificiale, grazie anche a sistemi di monitoraggio remoto, possono prevedere con grande precisione il rischio di guasto in un impianto, così da poter intervenire preventivamente prima che si verifichi. Questo permette inoltre interventi manutentivi programmati, evitando le situazioni di emergenza e riducendo notevolmente i costi e i tempi di inattività dell'impianto. Questo è veramente molto importante perché se uno aspetta, cioè non stiamo parlando in questo caso specifico di un impianto casalingo per cui abbiamo delle parti di ricambio, quindi un magazzino attrezzato. Molte volte si tratta di cose estremamente potenza, io sto parlando appunto degli impianti di potenza e in questo caso abbiamo che approvvigionare un ricambio non è estremamente facile, cioè ci vogliono dei tempi. Ad esempio, crede da un certo punto di vista che sia molto semplice, ma una carcassa di un alternatore, di un grosso alternatore, quindi una parte tutto sommato inerte per essere realizzata tra una cosa e l'altra richiede 6-7 mesi. Per cui se uno aspetta, ora di solito una carcassa non è che si rompa, ma non so, un rotore di un alternatore per avere o ha uno di ricambio, ma quello di ricambio ce l'ha semplicemente se ha diverse unità uguali, se no in casa non si mette un pezzo che ha un costo estremamente elevato. Pertanto il fatto di poter preventivamente pensare di fare un intervento di manutenzione è estremamente importante, proprio perché riduce i tempi e anche riduce i costi. Quindi, torno su questo discorso, proprio perché, come dicevo, abbiamo questa necessità di approvvigionare in tempi ragionevoli degli oggetti che sono sostitutivi e l'intelligenza artificiale aiuta anche a capire più velocemente il tipo di danno, le cause e le possibili conseguenze e quindi può accelerare i tempi di decisione per le misure da adottare. Nel caso un pochettino più semplice per uno che non ha vissuto nelle grosse centrali è quello della pulizia dei pannelli solari. A un certo punto i pannelli solari, quando in qualche modo sono troppo sporchi, non è che rendano ovviamente quanto dovrebbero. Per cui è necessario in qualche modo intervenire facendo un lavaggio di questi pannelli e in caso di guasto ovviamente per la sostituzione come è logico. Una cosa che mi ha sempre impressionato è che in India c'era un grosso impianto, un grosso campo solare per il quale, visto che avevano sbagliato in qualche modo, era di grossa potenza, avevano sbagliato in qualche modo il posizionamento, probabilmente non era il posto migliore per farlo, spendevano di più per lavare questi pannelli di quanto riuscivano a guadagnare dall'energia che ne tiravano fuori. E' una cosa un po' abnorme ma era la realtà, cioè usavano alla fin fine più energia per pulirli che di quanto ne potessero ottenere dalla generazione. Questi sono ovviamente già dei pannelli solari posizionati opportunamente, come si diceva, tra l'altro sono mobili per inclinare i pannelli in modo opportuno, proprio per avere un'automizzazione della, come dicevo, della produzione. Adesso passiamo alle reti. Abbiamo sentito parlare un sacco di volte di reti intelligenti, perché una volta prodotta l'energia, l'elettricità deve essere trasportata e distribuita. Quindi avrete sentito parlare di smart grid, quindi reti intelligenti. In questo ambito ovviamente i sistemi di intelligenza artificiale possono essere di grande utilità, soprattutto alla luce degli assetti emergenti del sistema energetico, in cui la generazione è distribuita e i flussi di energia dovrebbero essere multidirezionali, quindi si moltiplicano le variabili e la loro complessità. Tutto quello che è la gestione della rete diventa estremamente complesso e va tutto sotto il nome appunto di smart grid. Un'altra cosa per cui è veramente interessante l'applicazione dell'intelligenza artificiale sono le previsioni di volumi generabili da impianti eolici e solari e si possono incrociare con le stime del fabbisogno, ovviamente. In questo modo appunto l'intelligenza artificiale può gestire i flussi nelle reti in modo ottimale, anche con decisioni prese in automatico in tempi rapidi. Quindi in sostanza l'avere delle smart grid vuol dire avere una flessibilità delle reti e quindi la loro efficienza e affidabilità estremamente elevata. Abbiamo in particolare anche il discorso della gestione dei sistemi di storage, di accumulo. Come sappiamo, infatti le fonti rinnovabili sono intermittenti e quindi se si vuole avere un sistema che soddisfi il cliente e eviti i blackout bisogna necessariamente prevedere degli accumuli. Questo penso che non sia tanto reclamizzato perché io due o tre anni fa avevo avuto una discussione con una dirigente dell'Enel e salteva fuori che non sapeva di fatto neanche cosa fosse l'accumulo. Mi aveva un po' colpito perché... Ma d'altra parte l'accumulo è una delle cose fondamentali proprio per utilizzare le fonti rinnovabili. Abbiamo sentito dire anche che c'è una certa compensazione tra vento e sole, non credo in Italia, per cui in base a questa compensazione si potrebbe a un certo punto ridurre l'accumulo, ma personalmente non credo che sia una cosa semplice. L'accumulo è assolutamente necessario. Qui ho preso una fotografia, uno schema di una smart grid, vediamo le varie utenze sia come generazione, vediamo appunto Central Power Plant, poi c'è anche lì al centro più o meno l'accumulo e vediamo in qualche modo sulla sinistra ci sono i parchi eolici e tutte quelle che possono essere sostanzialmente le utenze e le generazioni. Forse qui non si vede... No, il solare si vede perché lo vediamo su le abitazioni, non vediamo l'idraulico perché è tutto sommato compreso nel Central Power Plant, anche se non è... Qui vediamo solo le torri, per cui non dovrebbe essere l'idraulico. Comunque esiste anche quello. Sicurezza. Allora, l'industria energetica può beneficiare tutte le potenzialità di protezione e sicurezza offerte dall'intelligenza artificiale. Dalla sicurezza informatica, purtroppo non è così, alla sicurezza sul lavoro, nei cantieri sono in piano. È un campo particolarmente promettente, sarà possibile con l'intelligenza artificiale analizzare e catalogare gli incidenti avvenuti in passato per calcolare meglio i rischi ridurli. Purtroppo è un argomento estremamente delicato e non tanto allegro in questo momento. Poi sono stato forzato, in qualche modo, da Maria Rosa Ronzoni a mettere eventuali potenziali pericoli. Dal che abbiamo che i robot, che come ripeto, i robot erano utilizzati già in passato grazie all'ICT, all'Information and Communication Technology. Adesso tutto sommato sono arricchiti dal discorso dell'intelligenza artificiale, però essendo i complessi di parti meccaniche ed elettriche, sensori e software, ovviamente possono danneggiarsi come potevano danneggiarsi una volta, soltanto che prima aveva qualche malfunzionamento. In teoria adesso potrebbero anche diventare malevoli questi robot. Dipende. Tutto sommato c'era uno scienziato australiano che un po' di anni fa diceva che quando gli hanno chiesto se era spaventato dall'intelligenza artificiale aveva detto che finché l'intelligenza artificiale non è applicata a cose in movimento che non mi spavento. Poi però aggiunto, cosa che non è del tutto corretta perché sappiamo benissimo che siamo un'intrusione abbastanza... la cyber sicurezza c'è o non c'è. Comunque poi aveva aggiunto a conclusione, dice comunque sono così anziano che non ne vedrò le conseguenze. Questa era la sua conclusione. Nel caso delle reti diciamo che più sono intelligenti più in effetti dovrebbero essere sicure, però quanto più diventano intelligenti tutto sommato abbiamo che la possibilità di sabotare, di cyberattacchi aumenta perché tutto è a un certo punto in qualche modo diventa vulnerabile. Mi ricordo che appunto fine anni 90 avevamo fatto uno studio di cyber security per delle centrali israeliane e anche quello molto di attualità. Una delle cose che ovviamente avevamo omesso era diciamo l'intrusione dell'uomo perché erano pattugliate quindi erano praticamente circondate da da soldati per cui era uno degli aspetti che non avevamo preso in considerazione perché a quei tempi si prendeva anche in considerazione questo fatto che l'intrusione fosse effettivamente era una persona che faceva qualcosa di non corretto. Tra l'altro, ora non se la prenderà Gabriella per questo discorso, ma tutte le volte che venivano a fare nella mia azienda della manutenzione sui computer poi saltavano fuori dei problemi. Non voglio dire che fossero dei dolo, però insomma non so perché molte volte trovavamo dei bacchi dopo la manutenzione. Poi l'altro punto è che più i processi diventano complessi, big data, è maggiore il rischio di perdere il dominio anche per un esperto. Qui mi viene semplicemente un discorso che da giovane mi aveva colpito. Eravamo andati praticamente con dei colleghi e un informatico, uno specialista di combustione a Milano dove producevamo caldaie e dovevamo mettere a punto un programma di calcolo che dava come output diciamo tradita di tabolato, perché è una caldaia estremamente complessa. Mi aveva colpito il fatto che c'era il direttore di questa fabbrica che a un certo punto ha detto datemi vedere qual è l'output, l'ha guardato e ha detto è sbagliato. Noi eravamo rimasti estremamente stupiti ma perché dice perché io la fiamma in caldaia l'ho vista e il colore della fiamma dice anche la temperatura a cui si arriva. Per cui questo aveva in testa, negli occhi diciamo, nella sua testa aveva esattamente dei riferimenti che noi chiaramente pur avendo diciamo in qualche modo dei modelli di calcolo, perché poi alla fin fine così è, non possedevamo. Quindi anche questo, il fatto che l'esperto non possa più dominare un processo, questo ovviamente si aggraverà col tempo che passa, è un problema abbastanza, secondo me, abbastanza serio. Allora qui arrivo alla parte invece storica, proprio diciamo di esperienza personale. L'ICT già nell'epoca passata, perché ormai è passata praticamente più di un'epoca rispetto all'ICT, perché io parlo di 30 anni fa, veniva utilizzata nella metrologia innovativa, controlli non distruttivi, ovviamente avevamo l'automazione e controllo di processo, la sicurezza degli impianti e il Remote Monitoring and Diagnostic. Allora, come dicevo già altre volte, i programmi di calcolo per il progetto di componenti di impianti girano praticamente dagli anni 60. successivamente era stato introdotto la parte chiamata CAD, che è Computer Aided Design, che è certamente, aveva fatto fare un salto in avanti perché chi ha vissuto come me, diciamo, in un'azienda elettromeccanica di grande dimensione, si ricorda che c'erano dei disegni, c'erano ovviamente dei disegni di dimensioni piuttosto elevate e c'era dire che il progettista, cioè il disegnatore allora, non era un disegnatore come può essere adesso quello che lavora al CAD, ma era un progettista, cioè partiva da delle dimensioni che venivano date alle parti attive, io ad esempio parlo per degli alternatori, o delle turbine, e dalle parti attive faceva un vero e proprio progetto. e quindi man mano col tempo questa professionalità si è persa, si è persa ovviamente perché chi usa il CAD normalmente non va a disegnare un componente o un particolare di volta in volta, è finito per utilizzare dei, diciamo, per prendere dei modelli da una specie di scaffale e li piazza nel punto del disegno più opportuno, quindi sceglie, non progetta. Dopodiché dal CAD siamo passati al CAM, cioè a un certo punto Computer Aided Manufacturing, quindi dal disegno si è passati direttamente al, chiamiamo, pilotaggio delle macchine. Quindi si trovano delle linee, questo anche per prodotti non di serie, perché io sto parlando, cioè la mia esperienza tendenzialmente è quella appunto nella grassa e macchine, per cui non sono macchine di serie, anche se in qualche modo si cerca, si è cercato di definire delle taglie in modo da, quindi potenze, dicendo, non so, per l'Enel era estremamente importante come riferimento il 320 MW. Quindi delle taglie venivano decise in modo da avere, da un certo punto di vista, un riferimento ben preciso, non andare tutte le volte a progettare questo e quell'altro. Però c'era anche un'altra ragione. Siccome qui in Italia non c'era solo un'azienda che costruiva queste macchine, a un certo punto si tipizzavano in modo da avere, anche se la realizzazione era poi diversa per la localizzazione delle fabbriche, avere un progetto unificato. Infatti, se si fa vedere nelle vecchie macchine, cosa che adesso non succede perché chiaramente i costruttori sono magari cinesi o cose del genere, per cui l'unificazione del progetto è estremamente complicata. Però in passato si cercava proprio di avere alla fin fine, per certe taglie, un progetto unico. Dopodiché ovviamente, oltre a queste cose, ci sono tutte le attività aziendali, tecniche non tipo progetto acquisto, immagazzinamento e via dicendo, che erano in qualche modo automatizzate. Ma dagli anni 60 in poi c'è stata questa, in qualche modo, automatizzazione che è stata, che ha incominciato a permeare tutta la produzione delle aziende. Per quanto riguarda, ad esempio, la diagnostica, dobbiamo dire che allora, adesso ancora più ovviamente di quanto non fosse, le centrali per la produzione d'energia erano condotte da un numero ridotto di tecnici, grazie alla concentrazione del segnale. Cioè, a un certo punto, man mano che si diffondevano i gruppi, le centrali nel mondo, siccome, diciamo, nel caso specifico dell'azienda dove lavoravo, c'erano dei mercati magari estremamente difficili da raggiungere, difficili, nel senso, con dei plotoni di persone, tipo, non so, Sud America, Africa, Estremo Oriente e via dicendo. Per cui, diventate estremamente importanti applicazioni per l'ICT, avere, in qualche modo, delle informazioni che arrivavano alla sede. Quindi, invece di mandare gli esperti, perché poi, come dicevo, anche prima, tutto sommato, gli esperti sono sempre meno, per cui è importante che arrivino le informazioni dalla centrale. E un esperto, magari, perché poi ci dovrebbe essere l'esperto meccanico, l'esperto elettrico, via dicendo, l'impiantista, e quindi, i gruppi per il mondo sono magari tanti, alla fine, il fatto di poter, in qualche modo, avere i segnali in una sala controlli, è estremamente importante. Vabbè, sempre più discusso l'impiego dei sistemi di controllo, è quello che dicevo. Ecco, questo, tutto sommato, è uno schizzo che dice come ci fosse la persona, diciamo, con il visore che raccoglieva i dati da tutte le centrali. Oltretutto, teniamo presente che proprio per la dislocazione delle varie centrali, diciamo, era necessario avere un'assistenza che poi si è sviluppata anche in altri campi 24 ore su 24, perché se in qualche modo si deve fermare una centrale, che comincia a diventare un problema e allora ho un gruppo di una centrale e allora dobbiamo avere disponibili delle persone che prendono in esame il problema a qualsiasi ora della giornata. Tant'è vero che il gruppo di manutenzione delle centrali aveva, come adesso si ha anche negli ascensori, c'era il reperibile che aveva, diciamo, sotto mano tutti i dati e veniva anche richiamato in caso di problematiche. Questo è uno schizzetto che fa vedere, ad esempio qua parlava di una centrale in India e una centrale in Cile, ovviamente erano della mia azienda, e qua si vede come tutti i dati venissero poi convogliati dalla centrale con sistemi che allora erano abbastanza arcaici, venivano convogliate alla casa madre che, come dico, aveva a disposizione poi gli esperti per analizzare, cioè c'è il discorso degli esperti, ma anche dei sistemi, diciamo, di calcolo, perché non è che all'inizio l'esperto aveva regolo in mano, ma dopodiché la cosa si è complicata e ovviamente i problemi, essendo una portata diversa, molte volte è chiaro che c'era la possibilità di fare delle simulazioni e dei calcoli specifici. Qua ritorno al discorso che avevo già fatto prima, che è la possibilità di controllare, grazie a ICT, quindi sensori e via dicendo, di pulire e riparare parti pericolose e difficili da raggiungere persone, temperatura, contaminazione, tensione, movimento, eccetera. Ad esempio un altro problema, prima avevo parlato sostanzialmente di caldaie, diciamo di ambienti nucleari, ma c'è anche quello della tensione, perché a volte era necessario andare a verificare lo stato di alcune parti che avevano delle tensioni di migliaia di volte, per cui ovviamente una persona non può fare queste attività. Quindi si usavano dei robot, nel caso specifico degli alternatori abbiamo sudato molto perché c'era, teniamo presente che un traferro può essere di 35 mm, 50 mm, c'era una specie di ageggio che si arrampicava, percorreva tutto questo traferro che si chiama Air Gap e poi si arrampicava anche sulle testate degli avvolgimenti. È stato un po' difficile metterlo a punto perché non era così, cioè non è sempre una superficie piana, quindi difficoltà proprio di movimento c'erano, però sono stati messi appunto, chiamiamoli robot, piuttosto agili che riuscivano a fare queste cose. In un'altra applicazione, qua intervenivano le reti neurali, era quello di cercare di ottenere una combustione a minore impatto ambientale e anche con combustione di combustibili poveri, esempio gas di raffineria. Cioè si cercava di bruciare di tutto per cui il cliente voleva che aveva questi gas di raffineria, a un certo punto voleva in qualche modo consumarli. Queste cose erano possibili grazie a una nuova concezione di combustori e l'uso di materiali, ma in particolare grazie a dei sistemi di controllo più avanzati. Questo qua è molto rudimentale, uno schema di come era considerata allora una rete neurale. Poi c'era il discorso della simulazione, che oggi è molto diffusa per l'addestramento del personale a molti livelli, ad esempio automobili, aeree e via dicendo. Però era anche utilizzata, da noi era utilizzata, per delle prove, per esecuzione offline, di prove dinamiche sui sistemi di controllo di turbina gas, turbina vapore, alternatori, eccetera. Una delle cose, ad esempio, che mi piace ricordare è che essendo il software una cosa che si manipola facilmente ed è estremamente pericolosa, è capitato che dovendo fare un'attività di commissioning delle macchine abbastanza rapidamente, venivano fatte delle modifiche direttamente in campo. Questa cosa qui dava dei pericoli veramente elevati. Ad esempio, uno che era la persona che aveva sviluppato il sistema di controllo, di notte, perché lavoravano anche di notte, ha scambiato un NAND con un OR e ha fatto questa modifica e il rotore è strisciato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che poi sono stati persi parecchi mesi, proprio in fondo, per una stupidaggine. Cioè, bisogna capire che fare un intervento sul software in caso di questo tipo ha una portata estremamente importante. Cioè, non è che uno dice, vabbè, è un'istruzione che cambia. Può avere delle conseguenze estremamente grave. Ad esempio, c'era un'altra cosa che è successa, che avevamo avuto un ordine, mi sembra in Tunisia, comunque nel Nord Africa, e hanno fatto diverse modifiche su campo. E per ogni componente c'era un team diverso. Caldaia, turbina alternatore. E cosa è successo? Che alla fine del commissioning dovevano schiacciare un pulsante e avrebbe dovuto partire tutto. Cosa che non è successa. Perché? Perché a un certo punto ognuno aveva fatto delle modifiche, l'aveva fatto per conto proprio. Oltretutto, la buona pratica cosa diceva? Diceva che se uno andava a modificare un'istruzione, a un certo punto, sugli schemi, doveva con la penna rossa andare a scrivere cosa stava facendo. Cioè, cancellava perché con la penna rossa, in modo da poter capire cosa aveva fatto, cosa aveva aggiunto o cosa aveva tolto. È stato praticamente impossibile ricostruire il software di Caldaia. Tant'è vero che successivamente, poi, era stato trovato il sistema di, praticamente, a fine commissioning, di tracciare tutto il software. Perché era diventato una cosa complicatissima. Perché noi stiamo parlando di una centrale che ha di potenza ragguardevole e anche, diciamo, dal punto di vista delle aree coperte, molto importanti. Quindi non è la lavatrice o lo scaldabagno. Insomma, è una qualche cosa di veramente importante. Tanto per citare un'altra esperienza personale, c'era proprio una centrale araba, c'erano due gruppi, un tizio cosa ha fatto? Doveva fare degli aggiornamenti, è andato, ha fatto gli aggiornamenti su una delle due macchine, su un alternatore, poi ha fatto fermare l'altro alternatore senza aver riprovato che ripartisse. Il risultato finale è che non è partito più nessuno dei due gruppi e hanno preso questo, l'hanno messo in carcere e poi è dovuto andare all'espertissimo per sistemare tutti i guai. Cioè, a un certo punto, questo perché lo dico? Lo dico perché sembra così facile modificare il software, ma comporta dei gravi, gravi, può comportare delle gravi conseguenze. Questo è un... Sul nucleare questo non può succedere, vero? Scusa? Sul nucleare questo non può succedere, vero? Tu ci stai parlando di centrali di un certo tipo, in quelli nucleari questo non può succedere. Parlo di centrali convenzionali, perché diciamo che nel caso del nucleare, poi alla fine l'azienda per cui lavoravo forniva soltanto alternatore e la turbina, quindi nonché l'ingegneria. Adesso le cose sembrano diverse, ma è da verificare. Sì, sì, possono succedere, anzi, diciamo che nel nucleare la complessità è ancora più elevata, quindi più automatizzata la cosa, più è passibile di problematica. Cioè, non so se Gabriele è d'accordo, però così è purtroppo. Questi erano i diagrammi di tensione, velocità. Le modifiche fatte in emergenza sono sempre fuori aeree di disastri. Cioè, è raro che magari mentre sei sotto stress, eccetera, eccetera. Però adesso, secondo me, la questione è completamente cambiata. Perché tu non puoi neanche immaginare di mettere le mani in algoritmi di intelligenza artificiale. Cioè, penso che adesso i sistemi, allora, dichiaro la mia ignoranza sui grandi sistemi, eccetera. Però se un'azienda cinese ti vende una centrale o robe del genere, lei ha il suo software, che ormai è sicuramente un software di intelligenza artificiale, perché se ti dà un sistema algoritmico autonomo con un sistema di monitoraggio, di autoconfigurazione, di ottimizzazione, eccetera, eccetera, no? E anche di previsione dei danni, come dici tu, che è importantissimo. È chiaro che ti viene dato chiamiamolo l'hardware, per cui la parte ingegneristica, e il software annesso continua a essere gestito in Cina, credo. Cioè, non credo che venga consegnato il software di funzionamento, non so come funziona adesso, ma probabilmente rimane in un cloud proprietario del cinese che ti ha regalato il sistema. Per cui, non vedo il programmatore poverino che scambia un end con un'ora, eccetera, che possa fare una cosa del genere. Lì abbiamo perso il controllo del tutto. Certamente. C'è però da dire, c'è, c'è da dire in aggiunta che noi facevamo simulazioni dinamiche. Quelle sono utilissime, assolutamente. Diciamo, dei sistemi, generalmente le turbine a vapore, le turbine a gas, via dicendo. Avevamo dei, praticamente sviluppavamo dei modelli per ogni componente e quando un componente come ad esempio la cassa olio o cose di questo genere non poteva essere in qualche modo simulato, perché non avevamo il modello, oppure era un qualche cosa di innovativo per cui non esisteva un modello di riferimento, e in quei casi lì addirittura interfacciavamo dei componenti, diciamo, delle schede che poi tenevano dentro in pratica il modello direttamente con delle parti hardware. Eh sì, certo. Per cui abbiamo fatto abbiamo fatto delle simulazioni come dico hardware software in stabilimento coprendo anche delle superfici piuttosto ampie proprio per evitare di incorrere in guai. Ovviamente, come dici, quando poi c'è da fare delle cose d'urgenza, stai in centrale le cose cambiano. Comunque un'altra cosa molto buffa è proprio che nel primo ciclo combinato che è stato fornito all'Enel, che era uno dei primi, a un certo punto c'erano i collaudatori Enel e uno dice, vabbè, incominciamo a provare, avviamo. E allora abbiamo schiacciato il tipico diciamo pulsante, insomma, vabbè, abbiamo dato lo start e passava il tempo e dice, ma caspita, cosa, come mai non succede niente? Non aveva tenuto conto, ad esempio, che la caldaia per andare in temperatura richiedeva un certo tempo, per cui, se fai una simulazione, non è che, no, quindi venivano, i tempi reali, venivano riproposti dal sistema. Cioè, uno crede che, cioè, se devi fare una simulazione reale, la devi fare con i tempi corretti, cosa che in quel momento lì avevano evidentemente dimenticato. e quindi, diciamo, tornando al discorso, i tradizionali controlli di qualità sui materiali grezzi, semilavorati, componenti, sia nuova, sia già eserciti, sono migliorati in termini di qualità. Cioè, in pratica, troviamo dei sistemi per quanto riguarda il controllo delle parti meccaniche, elettriche, via dicendo, troviamo dei sistemi che sono abbastanza analoghi a quelli che vengono utilizzati per la salute della persona. Cioè, ad esempio, i raggi X venivano usati poco, soltanto sui grezzi, perché a un certo punto abbiamo dei pezzi da magari 6-7 metri, quindi ci voleva un sistema per fare una radiografia, quindi non è come andare a un laboratorio di analisi. Quindi, sono anche le dimensioni che a volte obbligano a fare certe cose. Questo qua, ad esempio, era un controllo dimensionale di quello che vedete in basso sulla sinistra è una paletta di una turbina e questa specie di robot che poi andava praticamente a replicare il profilo della paletta stessa è quello che dà poi quella figura che vediamo sullo schermo. Quindi, diciamo che da questo punto di vista era utilissimo, è utilissimo perché non credo che abbiano tanto cambiato. Il fatto dell'intelligenza artificiale in questo caso può magari andare a vedere se le tolleranze sono tutte entro un certo range e eventualmente siccome sono oggetti che vengono ormai realizzati su una linea automatizzata andare a cambiare il processo perché magari il processo è derivato quindi se abbiamo un tot di palette che sono fuori tolleranza è chiaro che le big data ti possono aiutare per dire come devi intervenire questo è un altro tipo di controllo il controllo boresonico che veniva fatto proprio sui rotori delle turbine quindi veniva una specie di anche qua di robottino che veniva infilato dentro questo foro rotore che è fatto apposta nel cucinato per controllarne l'integrità perché la parte cioè controllarlo dall'esterno non è sufficiente quindi questa è la rappresentazione reale dell'oggetto con un pezzo del rotore questa è una tomografia tridimensionale perché tutto sommato si guardano molto i rotori si guardano molto i rotori perché girano a una velocità spaventosa perché siamo a 3600 giri con i 50 hertz o 3600 giri quando sono 60 hertz come il mercato americano o sì brasiliano sudamerica quindi è estremamente importante perché avere una parte che in qualche modo ha dei problemi può voler dire che il rotore esplode ora non sappiamo cosa sia successo a bargi perché sono velocità diverse però sono diverse anche le dimensioni per cui quello che è stata definita esplosione della turbina è ancora tutta da dimostrare non so cosa possa essere mentre poi c'è anche il discorso della possibilità di contrastare attacchi fisici e informatici con accesso diretto al computer alle macchine o lanciati in modo remoto dalla rete quindi c'era un discorso di organizzazione perché a quei tempi c'era anche il discorso che poteva venire una persona in qualche modo un ospite chiunque o nella centrale stessa e combinare cioè perché a volte basta basta proprio una stupidaggine prima citavo il discorso del computer che ogni volta che faceva una manutenzione spesso non ogni volta spesso poi avevano dei bug diciamo potrebbe essere fatto lo stesso ad arte arriva qualcuno in qualche modo che è grado di sabotare questo fisicamente e di fatti come organizzazione molte volte lasciano quando si va in certi posti ti fanno lasciare il cellulare neanche e per le fotografie e anche perché temono qualche attacco così l'area logica vabbè l'area fisica lo dicevo anche prima questa è la tomografia allora usavamo a un certo punto tutti questi discorsi per andare a monitorare la vibrazione della linea d'asse dei gruppi rotanti per la generazione di energie ecco l'ICT aveva un grosso un grosso compito e penso che attualmente sia anche con l'intelligenza artificiale il tutto sia ancora diventato più importante perché abbiamo ci sono erano dei modelli prima già dicevo che per quanto riguarda la combustione si utilizzava già si utilizzavano già le detti neurali era la prima applicazione che io ho visto in campo dell'energia era 92-93 quindi adesso presuppongo che ci sia ovviamente stato un maggiore utilizzo di queste cose allora quello che era estremamente importante era disporre di sensori speciali le unità di conversione condizionamento segnali unità di elaborazione più o meno complesse sistemi di trasmissioni dati unità di elaborazione remote perché a volte venivano addirittura diciamo elaborati i dati in centrale ora sono tutte cose che e poi vabbè c'era anche l'interfaccia uomo-macchina che non era una cosa trascurabile sono tutte cose che con l'agenza artificiale credo che si siano potenziate io vi ringrazio e mi scuso se sono stato un po' magari noioso perché non grazie 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 io ho guardato in chat e non c'erano delle domande scritte si sono collegati Enzo Baldini che ha avuto difficoltà si è collegato nel corso della della lezione e quindi credo che è presente adesso vedo senti Enzo tanto grazie scusa io approfitto di questo momento per ringraziarti molto perché è stata veramente una lezione importante piena di informazioni e ha fatto capire anche a persone come me non esperte e non competenti in molte cose e ti volevo rivolgere così una domanda relativa ai temi che stanno più a cuore alla bioetica il dibattito della bioetica particolarmente si rivolge sui parchi eolici come ben sai e anche sul l'agri fotovoltaico mi senti? sì sì ti sento questo è un dibattito molto acceso e tu hai fatto notare come l'intelligenza artificiale possa aiutarci a limitare i danni e a monitorare quelle che possono essere le problematiche del parco eolico e noi sappiamo che le problematiche sono diverse tanto l'impatto sull'ambiente e quindi dal punto di vista dell'estetica ambientale e questo è un valore che noi dobbiamo salvaguardare il tema della bellezza e le posizioni dell'associazione ambientaliste qui sono molto differenziate poi c'è anche il tema della biodiversità il pericolo per le migrazioni per gli uccelli è stato segnalato più volte quindi io ti chiedo tu che cosa ne pensi e se c'è anche una posizione dell'ecoistituto sul parco eolico e sulla loro auspicabilità poi per quanto riguarda il discorso dell'agrifotovoltaico mi stavo chiedendo e chiedo a te per quale ragione noi dobbiamo installare fotovoltaici sui campi coltivati e non ad esempio sugli orrendi capannoni industriali che sono un danno da tutti i punti di vista e non lo so perché non si è presa in considerazione questa proposta che mi sembrava molto più ragionevole tu cosa ne pensi io certamente i 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 fotovoltaico è anche relativo al fatto che ci vogliono delle grosse potenze, perché adesso noi stiamo viaggiando ma poi ne parlerà meglio Marco in un altro paio di conferenze ma noi stiamo a un certo punto viaggiando con degli incentivi su potenza che sono piuttosto basse perché noi abbiamo finanziato in pratica il ministero dell'ambiente della sicurezza energetica al Mase a un certo punto finanzia come comunità energetica rinnovabili circa un gigawatt l'anno noi ne dovremmo installare dai 10 ai 12 e quindi non è che il privato riesca così brutalmente a rispondere a questa esigenza per cui l'alternativa sotto certi aspetti c'era l'alternativa di andare a prendere dei campi soprattutto al sud dove c'è più insolazione dei campi dove puoi installare questi pannelli fotovoltaici per grosse potenze e quindi il problema questo problema dell'agri fotovoltaico potrebbe in qualche modo evitare le due cose ha anche un vantaggio almeno dicono io esperienza diretta non ne ho che intanto le culture potrebbero essere più protette perché adesso hanno fatto anche dei pannelli che sono resistenti alla grandine ad esempio chiaramente devono essere piazzati a una certa altezza perché se no non è che se fossero raso terra a un certo punto diciamo le culture non avrebbero quindi ora poi ci sono i detrattori e ci sono le persone favorevoli io ripeto cioè dico delle cose che alla fine ho sentito ad un certo punto sembra che diciamo che la cultura faccia bene ai pannelli e i pannelli facciano bene alla cultura sempre come ripeto messi a una certa altezza poi il discorso del il discorso del paesaggio delle paleoliche è un discorso complicato io penso che ormai con i sistemi che hanno volendo possano evitare di disturbare gli uccelli o comunque migrazioni cose di questo tipo d'altra parte adesso si sta spingendo molto sull'eolico offshore perché a un certo punto ci sono delle condizioni che ovviamente permettono di ottenere una potenza maggiore quindi adeguata alle richieste vedi cività vecchia certamente ci sono delle problematiche che ad esempio Marco conosce perché aveva fatto quando a un certo punto abbiamo era saltato fuori il discorso di fare di realizzare delle pale eoliche offshore qua nel Mar Ligure era andato a cercare tutte le controindicazioni che ovviamente insomma fondale alto poi ci sono un sacco di altre cose l'ecoistituto è tendenzialmente favorevole cioè non si occupa molto di paesaggio è fondamentalmente preoccupato di avere l'energia a disposizione tenendo anche conto che bisognerebbe però ridurre i consumi questo è abbastanza consolidato a un certo punto non si può tenere questo trend direi che dal punto di vista così è arrivata anche la pinuccia quindi il discorso è estremamente complesso non è così semplice certamente serve anche per coprire le esigenze attuali servono dei grossi investimenti perché non è che e se non si presuppone di mettere a punto dei sistemi di accumulo idonei alla fin fine ci porteranno al nucleare perché poi spingeranno in questa direzione non so Marco che cosa se mi permetti voglio integrare quello che hai detto intanto suggerire di partecipare alla conversazione che ci sarà a fine maggio il 30 di maggio ci sarà Luciano Celi che è una persona del CNR un senior researcher del CNR che parlerà di scenari rinnovabili cioè di come facciamo a fare una transizione che ci porti ad avere una situazione in Italia in cui non usiamo più dei carburanti fossili che è quello che ovviamente dobbiamo tendere più rapidamente possibile e quindi vi invito tutti quanti a partecipare a quella conversazione scusa è conversazione che si terrà dove qui sui canali di Ecoistituto sarà martedì 30 è martedì credo il 30 maggio il 30 maggio comunque quello di sicuro alle 17.45 questa conversazione appunto con Luciano andando a cercare sul sito di Ecoistituto poi c'è il solito link Zoom per potersi collegare perfetto grazie senza volere rubare e fare degli scoop troppo pesanti a quello che dirà Luciano però bisogna considerare che se noi consideriamo ipotizziamo di dimezzare quelli che sono gli attuali consumi energetici italiani e quindi passare da un 300 circa teravattora complessivi a 350 teravattora dimezzare non è una stupidaggine dimezzare i consumi è una cosa che ha un impatto notevole sulla vita di tutti quanti facendo questa ipotesi forte considerando anche quelli che sono le previsioni del PNIEC il nostro piano italiano dell'energia ci dovrebbero essere e quindi le suddivisioni tra fotovoltaico ed eolico ci dovrebbero essere in Italia considerando una taglia media da 5 megawatt di pale eoliche che in questo momento è quella tra le più diffuse sono le pale da 100 metri di diametro quindi alte 150 metri con la pala il rotore da 100 e che appunto ti generano un intorno di 5 megawatt l'una di potenza dovrebbero essere 10.000 in Italia 10.000 significa una ogni 6.000 abitanti lasciatemi dire significa i crinali devono essere abbastanza pieni cioè non ha molto senso dire non metteteli qui dietro Genova ma metteteli tutti dietro casa di un altro Cristo il fatto è che dovremo averne tutti perché se servono così tanto e sto dicendo dimezzando il consumo di energia elettrica che faremo se no possiamo dire ragazzi abbiamo scherzato chi se ne frega andiamo avanti con gas carbone e petrolio alla faccia delle prossime generazioni fatti loro che si scusate le parolacce però insomma chi se ne frega questo non mi pare eticamente molto corretto perché le prossime generazioni hanno diritto quanto noi di vivere in un mondo decente quindi dovremo fare qualche sacrificio secondo me qualche sacrificio riguarda anche il paesaggio scusatemi ci sarà qualche pala eolica che non ci piace tanto pazienza o stiamo con il cappotto tutto il giorno d'inverno zero riscaldamenti se invece vogliamo in qualche modo vivere almeno a livelli degli anni 1950 e 60 eravamo 3 miliardi in quel tempo quindi qualche cosa gli umani hanno fatto su questo mondo nel frattempo bisogna bisogna vedere anche che tipo di sacrifici vogliamo fare spero di non aver rubato troppo non ho il dettaglio di quello che Luciano verrà a dire non mi aspetto che sia molto diverso da questo perché i dati sono questi quindi fine del mio pistolotto scusate alzato la mano Gabriella grazie interessantissimo tutto mi ci sono trovata anche se io non ho lavorato in aziende come quelle di Enzo però la gestione del software mi è nota e l'osservazione che volevo fare adesso tra fotovoltaico paleoliche eccetera un'esperienza che ho avuto questo inverno in bassa Baviera attorno a Monaco ad esempio lì proprio utilizzando anche degli algoritmi di analisi tipo abbiamo già parlato quando si parlava di smart city del gemello digitale delle città delle zone di territori intieri dove si possono fare simulare scenari si parlava prima di simulazione l'intelligenza artificiale permette proprio nella raccolta di dati che comunque ci sono già a livello territoriale perché si hanno i dati territoriali meteo e così via ce ne sono per cui questi algoritmi possono effettivamente simulare dei scenari e calcolare anche l'impatto di certe strutture come vengono messe ecco attorno a Monaco che c'è anche una buona zona dedicata proprio a campi agricoli insomma anche stesi ecco loro hanno organizzato per esempio dei pannelli fotovoltaici dove chiedo scusa mi stanno chiamando ma io non potrò andare dove ci sono i parcheggi cioè come coperture dei parcheggi no per esempio e lì sopra hanno messo quintalate di pannelli fotovoltaici sicuramente mettendo insieme anche delle parti coltivate ad agricoltura evidentemente che sono risultate con tipo campi di soia robe del genere non mi ricordo bene cosa erano con pannelli fotovoltaici messi a una certa altezza ma neanche tanto alti no e praticamente con i che abbiamo fatto una lunga passeggiata anche intorno a Monaco ci sono anche appunto dei paesaggi molto carini boschi da visitare e praticamente con dei sistemi non impattanti delle zone che bene o male non ti davano neanche il fastidio fisico come dire nel vedere loro riescono a produrre l'energia per due o tre città Monaco compresa i due o tre cittadini intorno per cui non so quanti mille abitanti allora dico io l'intelligenza artificiale ci aiuta a fare questa analisi prima di tutto è una sorta di programmazione che poi può essere testata e simulata sempre con i sistemi di intelligenza artificiale per cui della serie invece di calare dell'alto non so metà fotovoltaico metà paleoliche diecimila paleoliche in Italia fanno paura anche a me andiamo a vedere progetti locali e studiare effettivamente che poi l'Italia è variegatissima come ambiente come habitat e così via utilizzando dove si può sopra i parcheggi e sopra i capannoni giustamente come diceva Luisella e dove non si può fare ti metti la palla eolica e cerchi di non metterla proprio dove passano gli uccelli come via io dovrò salutarvi però se si vuole si può secondo me grazie 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 a te scusate ritorno un attimo sul discorso sulla domanda che ha fatto Luisella riguardante uccelli e paleoliche recentemente ho letto un un articolo basato su una ricerca durata oltre due anni che è costata anche un bel po' di soldi perché hanno messo una strumentazione molto dettagliata su tutto un parco del mare del nord sto parlando quindi offshore che andava con telecamere ovunque a analizzare il volo degli uccelli sia quelli stanziali che quelli migratori e hanno visto che l'impatto è stato estremamente basso cioè sostanzialmente non ci sono morti di uccelli gli uccelli si a seconda delle tipologie lì erano tipi diversi di gabbiani di razze differenti sostanzialmente che giravano in quella zona non erano quelli terricoli nostri noi non abbiamo dati perché non abbiamo neanche le stesse paleoliche da monitorare però lì dove invece c'era un parco molto grande ed era stato monitorato oltre due anni hanno visto che praticamente non ci sono morti dovuti a causa della presenza di queste pale cioè gli uccelli non sono stupidi sostanzialmente cercano di stare abbastanza distanti non so in che modo sia possibile trasferirvi questa ricerca se no perché questo finisce su youtube metterlo in un commento su lo youtube di questa di questa di questa chichiarata hai l'articolo pdf mi pare di averlo letto anche a me no? ah sì cioè l'articolo da qualche parte ce l'ho era per lasciarlo perché se ce l'hai lì se vuoi farlo vedere a noi lo puoi inviare in chat non ce l'ho adesso dovrei cercarlo altrimenti me lo dai e lo pubblico insieme a questa videoconferenza all'interno dell'articolo che scriverò per il sito diciamo perfetto christopher perché questo mi sembra un dato importante e poi lo possiamo pubblicare su facebook per esempio ok grazie figurati chi è che vuole ecco luigi fasce diamogli la parola ma accendi il microfono sì sì grazie tanto come ha già detto qualcuno ne associo ho imparato molte cose che non conoscevo in un'altra occasione magari se riuscisse a capire bene la differenza tra il big data e la intelligenza artificiale secondo me credo che sarebbe un altro bengala nella notte nella mia mente che ringrazio ma mi voglio soprattutto diciamo esprimere su la linea che stasera secondo me abbiamo indicato come eco-istituto che spingere al massimo del massimo possibile inimmaginabili certamente i pannelli solari chiarire sull'agro agri voltaico come è stato fatto benissimo per togliere tagliare le unghiette avvelenate di chi vuole solo dire no e non capire che l'appello che ha fatto Marco sulle prossime generazioni ci dovrebbe essere ancora nella specie animale l'istinto di sopravvivenza della specie no speriamo di incentivarlo per cui credo che possiamo marciare dobbiamo fare in modo che però frattin venga inibito per il possibile e immaginabile per quanto ci riguarda su quella questione del nucleare il nucleare è una cosa da come si chiamano quelli che i lemmi che si buttano in mare per per suicidarsi tutti in massa no io credo che quella lì sia un'esperienza che gli esseri umani non dovrebbero assolutamente replicare in questo momento credo che l'immediato pericolo sia la guerra atomica quindi credo che qui siamo tutti per dire no alla guerra faccio questo appello anch'io e spero che tutti quelli che almeno sono qui votino per quelli che all'europe non vogliono la guerra poi vogliono un'Europa autonoma da tutti gli imperialismi e dopodiché voglio dire noi facciamo la nostra parte ringraziando Enzo Ortello che ci dà questa occasione di imparare qualcosa che mi dà poi sarà qualcuno che ne sa quanto lui comunque io sono molto contento di aver assistito questa 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 lezione grazie a tutti c'è Pinuccia Montanari che vuole intervenire sì spero di riuscire perché sono in treno quindi ottimo sei bravissima e no e volevo dire che innanzitutto ho visto le slide tu e Enzo e sono veramente utilissime e come le conferenze quelle di Angela sull'economia circolare quella di Bardi sulla diciamo sui limiti della crescita e questa appunto tua dimostrano come ci può essere un binobio interessante insomma tra intelligenza artificiale e i vari settori dell'innovazione tecnologica e che vanno nella direzione giusta e vanno nella direzione giusta quindi io mi volevo complimentare con te per le due slide che ho veramente studiato mentre ero in treno mentre stamattina e poi per quello che ho sentito ritengo appunto che dobbiamo affrontare tutti i problemi che ci sono in modo tale da individuare anche delle soluzioni e volevo chiederti rispetto alle comunità energetiche rinnovabili cosa pensi e come pensi che possiamo diciamo ancora meglio contribuire alla diffusione ecco di questo di questa prospettiva e poi volevo ricordare a tutti che martedì prossimo credo martedì sì ci dovrebbe essere la presentazione del libro di Postiglione a proposito di quello che diceva Luigi sulle vie della pace molto interessante perché parla dei diritti di quarta generazione quindi penso che sia molto interessante spero che mi abbiate sentito perché la linea va un po' e viene sì sì tutto tutto bene sentito ma Pinuccia quella cosa lì si potrà vedere come per quella della pace puoi dire una parola in più martedì cosa? no scusate volevo dire che la presentazione del libro di Amedio Postiglione è lunedì 13 grazie perché io mi chiedevo come fosse possibile l'ho segnato sull'agenda è lunedì lunedì 13 no martedì scusate un'altra videoconferenza del ciclo ed è online ed è online ed è online perfetto mercoledì c'è la videoconferenza sul CCS è una settimana piena mentre martedì 14 c'è la conferenza di di Manti esatto nel costituto perfetto no 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 va benissimo scusate quindi lunedì c'è questa della pace esatto ci sarà poi un link che il nostro solito Chris ci metterà a disposizione esatto proprio su questa sul sito eventi su eventi è già a disposizione nella sezione eventi del sito di equistituto come sempre grazie Chris per tutto il mese sapete che ho pubblicato il mio libro su il corpo umano da 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 Socrate ai giorni no Ippocrate ai giorni nostri su Amazon vi farò sapere ottimo ok un po' di propaganda grazie io volevo volevo aggiungere una cosa su allora intanto rispondere a Pinuccia diciamo che il nostro contributo almeno il mio alla diffusione delle chair sta diciamo diminuendo per un semplice motivo che stiamo ormai nella fase più leguleia secondo me sta prevalendo la competenza che uno ha in campo proprio normativo legislativo cioè non 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 c'è più un discorso di tecnologia perché poi questo aspetto credo che sia ormai abbastanza coperto e invece c'è tutta la parte burocratica e normativa che è complicata cioè questo fatto tra l'altro secondo me è un freno anche alla diffusione io alzo abbastanza la bandiera bianca su questo su questo argomento credo che venerdì ci sia un o a breve mi aveva segnalato Luigi un qualche cosa che era una conferenza che era proprio relativa a questi aspetti perché c'è della gente che ormai si specializza bisogna cioè io personalmente non sono all'altezza al momento bisogna che studi alcune cose eventualmente perché la parte non so Marco ma questa parte sta diventando preponderante un'altra cosa che invece più tecnica che volevo dire è che questa evoluzione della parte così energetica deve tenere presente alcuni aspetti che sono già stati evidenziati uno che è il principale che visto che le fonti non così rinnovabili sono intermittenti come dicevo come tutti sanno c'è necessità di avere dell'accumulo e quindi l'installato tra l'altro deve essere superiore a quello che io avrei se avessi delle fonti convenzionali cioè a un certo punto se un più o meno credo che al sud le ore di insolazione siano 1300 c'è 1400 forse e in base a quello ci sono delle diverse remunerazioni del megawattora prodotti e per quanto riguarda il vento invece siamo un po' più elevati perché credo mi sembra che sia sulle 2000 ore anno però teniamo presente che le centrali convenzionali a un certo punto possono anche funzionare a tavoletta questo è quindi l'installato dovrà essere in proporzione più elevato cioè la potenza installata delle rinnovabili dovrà essere più elevata di quanto non sia la potenza diciamo attuale convenzionale per cui a maggior ragione bisognerà cercare di risparmiare a un certo punto di andare verso dei consumi più ragionevoli teniamo presente che in passato cioè l'abbiamo tutto sommato anche sotto gli occhi se andiamo a vedere gli elettrodomestici hanno fatto delle classi abbiamo cioè in passato non era così perché quando appunto io ero responsabile del gruppo di lavoro internazionale dei motori avevamo indicato migliorie da fare per avere dei motori ad alto rendimento motori elettrici e in genere erano abbastanza falliti perché a quel tempo l'utente non gradiva ecco chi aveva dei grossi motori nelle proprie industrie tutto sommato preferiva consumare di più e pagare meno all'investimento iniziale ora fortunatamente penso che sia cambiato come dico visto che a livello a livello casalingo abbiamo tutti dei diciamo degli elettrodomestici che sono di classe superiore man mano che passa il tempo credo che poi man mano sarà anche vietato produrre lo vediamo nelle macchine dobbiamo fare degli interventi sulle abitazioni e via dicendo fortunatamente il trend sembra quello non ho da aggiungere altro e poi volevo dire che tendenzialmente ho scopiazzato per fare le mie slide non è che insomma ho fatto da collettore selezionatore collettore hai rielaborato ti sei documentato ecco corretto a parte le esperienze personali che in parte ho raccontato e ne avrei da raccontare tantissime purtroppo fortunatamente succedono di tutti i colori attualmente vediamo perché anche vediamo nel campo della sicurezza che le cose non andavano bene ma stanno andando purtroppo sempre peggio direi che hai fatto il ricercatore anche vanno vanno sempre peggio le cose nonostante gli strumenti siano sempre più potenti questo è la cosa che dispiace vi ho messo in chat l'articolo di cui parlava Marco sugli uccelli migratori ho visto è molto interessante ci sono altre domande commenti Enzo Baldini Marco hai ancora qualcosa da osservare io direi io ho solo da ringraziare solo da ringraziare ottimo ottimo bravo grazie a te grazie a voi mi associo anche io ai ringraziamenti tra l'altro utilissima questa questa lezione anche per il festival è preziosa quindi farà parte senz'altro mi auguro del programma poi se ne parlerà ecco con Pinuccia abbiamo un appuntamento e quindi al più presto vedremo anche di definire eh Pinuccia sì sì anche domani anche domani perfetto perché effettivamente questo pre-festival devo dire l'ho trovato quest'anno di grandissimo interesse e quindi ringrazio molto tutti quanti perché è stato fatto veramente uno sforzo importante un contributo prezioso quindi questo pre-festival ha rivelato la sua la sua utilità ci sarà di grande aiuto per fare i nostri interventi al festival del 26 e 27 agosto ecco lo voglio ancora ricordare il festival di bioe quindi grazie io vi saluto perché anch'io adesso ecco lasciamo lasciamo chiudiamolo in battenti ecco l'unica cosa che volevo ancora ricordare che poi al di fuori di festival cose varie ci saranno due conversazioni di Marco Lobardi sulla carbon caccia nella cattura e nello stoccaggio della CO2 CCS che però sarà una sola mercoledì una sola e mentre invece quella sulla transizione a soltanto fonti rinnovabili la fa Luciano Celi quella che citavo il 30 maggio il 30 maggio invece quella che faccio io è settimana prossima cos'è giovedì mi pare mercoledì non è il 30 maggio è il 29 mercoledì direi Marco dunque aveva detto il 30 no no ho sbagliato io ho sbagliato è il 29 scusate è il 29 ho controllato in agenda è il 29 maggio alle 17 sulla transizione tutto energetico invece mercoledì 15 quindi settimana prossima la conversazione su cattura del carbone perfetto perfetto grazie va bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a voi ciao buona serata grazie grazie Enzo